Tra le Muramiche l'Arezzo spesso ha portato a casa un risultato inferiore a quello che poteva venire fuori dal gioco espresso dalla squadra di D'Alcanto. Ricordiamo i pareggi contro la Carrarese e contro il Ziena, tanto per fare due esempi. Domenica invece contro l'Olbia l'Arezzo ha giocato una partita non bella, proprio per non dire brutta, una partita nella quale ha rischiato anche di andare sotto, salvata soltanto grazie a due errori, soprattutto uno veramente inqualificabile degli attaccanti ospiti. All'87esimo il colpo di testa chirurgico di Burzigotti ha dato i tre punti alla squadra Amaranto. Oggi, seconda in classifica da sola, a inseguire l'Intella che ha 52 punti, l'Arezzo 49 a 46, la coppia composta da Piacenza e Provercelli. È vero che ci sono squadre che ancora devono recuperare partite, è anche vero che di queste partite qualcuna la dovranno pur giocare fra di sé, sicché i punti non li possono fare tutti. L'Arezzo è una delle squadre che ha già giocato tutte le sue partite, ha una posizione di classifica invidiabile, insperata e si giocherà fino all'ultima giornata uno dei posti migliori, se non proprio per il primo, perché secondo me l'Intella ha un organico nettamente superiore e poi non scordiamoci che le altre squadre che sono insieme all'Arezzo per lottare a questo punto per la promozione diretta hanno dei budget che superano di gran lunga quello della squadra Amaranto. Non scordiamoci tra l'altro che a febbraio dello scorso anno, sicché soltanto 12 mesi fa di questi tempi, appunto non sapevamo se oggi saremmo stati ancora tra i professionisti oppure addirittura cancellati e ripartendo dall'eccellenza. Sicché la posizione di classifica è qualcosa di insperato e insperabile pochi mesi fa, soltanto in estate, godiamoci questo momento, godiamoci questa squadra che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni e facciamo di tutto per arrivare a giocarsi almeno i play-off in una posizione di classifica che possa portare dei vantaggi, perché ricordiamo che arrivare tra le prime quattro significa, se non altro, saltare almeno un turno dei play-off e poi con tutta una serie di vantaggi se si dovesse proseguire nel cammino. In tutto questo la nota stonata, secondo noi, riguarda i problemi societari, problemi che continuano a imperversare su dove non dovrebbero, cioè nei giornali e nelle tv e nei media. i nostri soci, presidente e vicepresidente, in questo caso la Cava e i Ranzelmi, sarebbe bene che si trovassero una volta per tutte, si chiarissero e risolvessero a quattro occhi le loro problematiche senza dover tutte le volte parlarsi attraverso i terzi, in questo caso i giornalisti di Arezzo. iscriviti al canale